I distretti turistici sono dei contesti omogenei o integrati a livello territoriale che promuovono sostanzialmente una sinergia tra le eccellenze di questi territori con una novità essenziale rispetto al passato. Innanzitutto la partecipazione dei privati fino a un tetto del 30% e poi l'assoluta assenza di qualsiasi aspetto di ente para regionale, cioè i comuni, le province, le aziende, la Confesercenti, la Confindustria e la Confcommercio partecipano direttamente in moltissimi di questi distretti turistici che ricordiamo appunto sono 15 distretti territoriali e 7 tematici. Ovviamente quelli territoriali hanno una contiguità nel territorio, quelli tematici riguardano appunto la promozione di alcuni aspetti delle eccellenze turistiche in Sicilia. L'istituzione dei distretti è stata voluta con forza proprio per andare incontro alla possibilità di immediata utilizzazione di una linea di intervento di fondi europei che è la 3334 del Confeser 2007-2013 che vede già adesso nel 2012 la possibilità di attivare immediatamente su progettazione 20 milioni di euro e che vede una dotazione appunto di 40 milioni di euro. Il fatto di mettere insieme il pubblico e il privato in un'ottica appunto di economia mista consente di non spendere soldi per personale o per le assunzioni e nello stesso tempo di rifarsi a una logica che è quella virtuosa già presente in passato a livello esclusivamente privato dei consorsi per esempio tra gli ambiti ricettivi, alberghieri, quelli della ristorazione. Qui in più c'è una grande possibilità che è la possibilità appunto di andare ad impiegare su progetti che appunto saranno valutati da parte dell'amministrazione i fondi europei e quindi di arrivare a promuovere adeguatamente l'unica alternativa alla crisi economica e sociale che attanaglia il nostro paese. Il turismo in Sicilia si deve fare tutto l'anno ma soprattutto deve diventare un settore imprenditoriale all'avanguardia seguendo già modelli consolidati in Europa e nel Mediterraneo come il modello provenziale e quello andaluso.